Questo messaggio del governo sulla prossima fase di controllo del coronavirus con l'app NHS Test & Trace. Per proteggere i vostri amici e la vostra famiglia l'app Test & Trace, ovvero test e tracciamento, dovrà diventare il nuovo stile di vita. In caso di sintomi dovrete sottoporvi immediatamente al test del tampone. Non uscite di casa per nessun altro motivo. Se il test è positivo, vi contatteremo per rintracciare le persone che potreste aver contagiato. D'ora in poi, se vi verrà detto che siete venuti a contatto con una persona infetta, dovrete auto-isolarvi per 14 giorni. Fate la vostra parte e fate la cosa giusta in modo da poter tornare presto a una vita più normale. Consultate il sito nhs.uk o chiamate il numero 119. State allerta. Controllate il virus. Salvate vite umane.